Buonasera e benti a tasse a Novis. Alla Piardut e il controllo della Somoto, un Eguzi, alle Latte, qui intri un cartello stradale alle Muarte di Botte e la tragedia è capitata un po' prima dei miei segnoti sulla strada regionale 3-5-6-3-Damits escluse l'OMP al VEV 43-1 all'eree originaria di Alcamo in provincia di Trapani e all'eree residente dal 2003 ad Atimis. Su di un e altre moto all'eree un amico di 32 anni di rivignante ora che l'è finita anche lui fuor strada e da Spò vi è urtato un chiavrù che all'eree vinnut fuor di Botte dal bosco. Il Zovin si è ferito gravemente rimacente pericolo di rivite. E sono finissi da Spò, Dossoris, l'isoperazione di soccorso dai bigli dei FUC pal tamponamenti dei tiri che l'aiere è succeduta torna di 12.30 di autostrade a 4, un chilometro prima dal svincolo di Spenea in direzione Trieste. I soccorritori rivassero di mire maestri e hanno tutti in sicurezza e in mezzo e hanno preso in presso idraulico che hanno tirato fuori cui che guidavano il ferito. Il Zovin è stato curato dal personale sanitario dal suo e trasferito in ospedale. E 36 casselli per un totale di 980 kg, se di mille non declarasse e ne accompagnasse di certificazione sanitaria, sono stas e chiatasse in un camion che arrivava dal puerto turco di Mersin e che passava dal puerto Frank Nuf di Trieste con destinazione il Belgio. Il carico agliere scortate di documenti di transit che indicavi la presenza di più di 1.000 tox per un peso lordi di 6.000 kg. La massa e grande frammentazione dal carico, la varietà e la ciantità di articoli e la suggerite a guardie di finanza e agenzie di sdogani sono verifiche fine. La roba non declarata è stata confiscata per contrabando amministrativa, è stata portata una multa, la 1.000 e sarà buttata via. E sono quindi le sanzioni di 400 euro ognuno, riduzute a 280 seppaiati 6.110 che in queste ultime settimane siano fatti carabinieri dal nucleo antisofisticazione e salute di udintes province di Udin, Guriz e Trieste. La puoi risinta che di un partecipante ai fiesti gusti off agorise chiatate dentro ai manifestazioni 100 Green Pass. Altri scutuardi sanzioni in bar e ristoranti un carnet a persone che mangiavano dentro il local 100 Green Pass. Le multisessioni stadi anche per titolare sanzionate anche un sale Zuc di Trieste. Le multisessioni stadi sono convinte che l'introduzione del Green Pass aiuterà le famiglie e i lavoratori. È un strumento che aiuterà le famiglie perché se non c'è l'obbligo di scuole non poteranno garantire le scuole di scuole e che questa è una priorità. Lo ha confermato il Ministro Pefame Elena Bonetti, UE in Regione. Il territorio del Friul Vignese e Giulie è una particolarità in cui le parti private, Sizzonte, Miorco, la parte sanitaria e socioassistenziale che hanno dei grandi temi a livello nazionale e forse anche una delle criticità dal mondo dei disabilitati. Lo ha detto e apporto non il Ministro Pefame Elena Bonetti, Erika Stefani, dopo aver visitato due strutture specializzate. La visita è proseguita dopo a Trieste. Pazian di Prat ha celebrato i 55 anni di fondazione del gruppo folcloristico locale e la 35esima edizione del rassegno itinerante del folklore, un evento che dal 1986 al mette ad un i gonfalon si deduce il gruppo folcloristico dal Friul Vignese e Giulie. E allora esco il tempo come il presidente del gruppo folcloristico di Pazian di Prat. L'importanza è grandissima, sicuramente, perché non facciamo i 55 anni, ma sono gruppi che sono inviti di oltre 100 anni, come il gruppo di Resia, ma può continuare anche con il gruppo di Avian, il gruppo di Caprive, di Lucinings, di Gurisse. Quindi ho vinto una grande forza in Friul, che si fonde sui dritti fuarti, che vengono anche in modo di 2-6 anni fa, però ho potuto dire che il Friul non siamo vivi, sono tanti giovani che partono dentro le nostre tradizioni, le nostre cure, le nostre mood di vivi e di sentire il Friul, di sentire tutti insieme, unire per partire dentro ciò che vengono vivuti, di piccoli e ciò che non siamo tramandati le nostre voce. Quindi non sono tanti al mondo, partono nel folklore, con i nostri giovani, perché sono tanti giovani che si svegliano al nostro Friul, al nostro mood di sentire. Sono tanti al mondo e partono nelle nostre tradizioni, nelle nostre mood di ballare e di chiantare, di sei allegri, sempre, e ho ricevuto nelle nostre piccole patrie, tanti gruppi che vengono dall'estero, di tutto il mondo, partono le loro cure, le loro vivacità, le loro tradizioni, i loro colori, i loro songs, le loro danze. E a Pazian di Prata l'è intervenuta anche il Presidente del Consiglio regionale del Friul Vignese, Giulia Piero Maulo Zanin, scontello, cumò. Il Presidente del Consiglio regionale del Friul Vignese, è importante perché ci sono le tradizioni delle nostre Friul, delle nostre comunità, delle nostre int. e bisogna in questo momento stare in onglie, coltivarlo, perché non vedi di smentare di nulla che vengono. Parlando di nulla che vengono e di là, bisogna che lo sapete in cui vengono. E allora i chianti, i bai, i costumi, il mood di dì, è importante che i chianti fassino un grande lavoro anche di ricerche storiche, insomma, mantenere vivere le tradizioni. E per fare anche un autocompiacimento di c'è che il Friul l'è e di c'è che le tradizioni del Friul la sono. E anche per fare anche la chianti, perché il folklore è mondiale. In ogni paese c'è un gruppo di folklore, qualcuno che ha investito sulle tradizioni. E quindi noi abbiamo fatto che, anche come consiglio regionale, che facciamo di leggere per il futuro, abbiamo fatto che la chianti sia un giorno importante per sapere che ci siamo. Ecco qui, e ieri le ultime notizie di Sgnovis. Sì, vi ho detto, mandi sere, grazie e mandi. Sì, vi ho detto, mandi sere, grazie a tutti.